Bella a tutti ragazzi, io sono Fed e benvenuti in un mio fantastico video è un video un po' diverso dal solito, infatti risolverò questo cubo di Rubik vi spiegherò come si fa scusate se sentite musica ma siamo alle vacanze musicali e sembra di essere in un concerto in continuazione ma partiamo subito per completarlo vi facilito le cose, partiamo dalla faccia bianca e il centro indica di che colore sarà la faccia perfetto, dobbiamo fare per prima cosa questi spigoli questi spigoli, allora facciamo che voglio mettere questo spigolo allora dobbiamo vedere i due angoli congruenti che lo creano questo spigolo è formato, scusate se sta arredendo certa gente ma scusate allora per fare questo spigolo dobbiamo vedere questi due angoli perché sono i due angoli consecutivi allora bianco e arancione dobbiamo trovare bianco arancione, bianco arancione eccolo e lo mettiamo qua sopra e così farò per tutto scusate ragazzi ci sono messi a ridere, non ho ripreso a registrare comunque ho fatto gli spigoli, vedete che sono tutti giusti come potete vedere adesso si passa agli angoli, è la stessa cosa degli spigoli bianco, verde, rosso sarà questo bianco, verde, rosso, bianco, verde, rosso tirerò giù e lo prendo su e così faccio per tutti ecco ragazzi il risultato dovrebbe essere questo una faccia ovviamente bianca completa e la corona una volta fatto questo dobbiamo adesso fare il secondo strato che è fare tutte queste file così come si fa? allora qua ovviamente ci dovrà essere il blu devo scegliere una cosa da mettere qua che deve essere una blu rossa vado a cercare il blu rosso e questo qua questo deve finire qua e per questo lavoro esiste l'algoritmo ho sbagliato ragazzi scusate scusate ho fatto un fail bestiale a fare l'algoritmo adesso io devo mettere questo verde rosso nel verde rosso e l'algoritmo sono sicuro che sia questo esatto eccolo qua il nostro bel algoritmo questo qua è l'algoritmo se volete li trovate su internet ci sono un sacco di siti ma io volevo solo farvi vedere come si fa poi questo qua è arancione e blu lo metto arancione e blu e così farò per tutti una volta arrivati a questo punto vi troverete con il cubo in questa maniera oppure solo con la faccia gialla al centro ovviamente la faccia sotto è la faccia bianca e questa qua è la faccia gialla adesso ne punteremo a fare il pavimento giallo come facciamo? adesso ci vuole l'algoritmo B che si fa così esatto adesso è arrivata a questa posizione e si bisogna metterla in questa direzione allora vi dico che potrete anche trovare il cubo una volta che avete fatto i passaggi precedenti anche in questa posizione e dovrete rifare l'algoritmo B si chiama così poi arriverete a un punto nel quale avrete un sacco di possibili variazioni questa qua questa volta mi è venuta questa in questo caso devo applicare l'algoritmo C più un algoritmo C e devo fare questo e l'altro algoritmo C e mi viene questo e ho fatto il pavimento giallo ora io come faccio a completarlo? giro un po' e vedo come mi viene mi potrebbe venire questo oppure dovrei fare altri passaggi che però in questo caso non mi sono venuti quindi se volete vederli andate in un sito internet e ve li spiegherà molto bene allora in questo caso ora devo completare il cubo sono gli ultimi passaggi devo semplicemente spostare questo qui questo qui e questo qui e devo applicare l'algoritmo SimC più l'algoritmo C girando il cubo ed ecco che viene fuori il nostro bellissimo cubo comunque ragazzi per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale e questo qua è stato un video un po' diverso dal solito so di non aver fatto un sacco di cose perché ho semplicemente fatto il cubo e non ho detto neanche tutti i casi ne ho detti davvero pochi però se volete come vi ho già detto andate in un sito internet che spiega accuratamente e fidatevi spiega davvero molto bene poi qua nei commenti qua ne scusate in descrizione vi vi do il sito di questo sito internet davvero spettacolare che spiega come si fa tutto il cubo e questo qua era un po' il video per farvi capire che si riesce scusate se si sente un concerto perché vabbè siamo alle vacanze musicali come vi ho detto comunque per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione evito di rifare il finale e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti